C'è stata la prima asta TLTRO, una sigla complicata che semplicemente disegna un credito che la Banca Centrale Europea può fare alle banche con una durata di 4 anni, un tasso di interesse dello 0,15 con una condizione, che questo credito venga erogato alle famiglie e alle imprese escludendo la parte dei mutui. L'essito dell'asta ha avuto commenti difformi, taluno ha parlato di delusione, non siamo meravigliati, soprattutto certa stampa anglosassone tende ad enfatizzare gli aspetti problematici della vita dell'euro e della Banca Centrale Europea e magari a minimizzare gli aspetti positivi. Che cos'è quest'asta? È un esperimento, si prova a incentivare le banche a fare del buon credito. La domanda è stata più bassa di quella delle attese, ma le ragioni sono più d'una. In primo luogo per accedere a questo credito si poteva farlo oggi, in settembre, ma si può farlo anche a dicembre. Non dimentichiamo che tra settembre e dicembre ci saranno appuntamenti importanti per le banche, quindi le banche prudenti probabilmente attenderanno dicembre per decidere cosa fare, per capire come saranno i risultati delle loro valutazioni, come andrà l'economia. In secondo luogo è un incentivo a fare credito che nasce da una condizione molto chiara, ci deve essere una buona domanda di credito. Traduciamo con la solita metafora, si dà l'acqua, però occorrono dei buoni cavalli che vogliano bere. Se dei buoni cavalli non vogliono bere, questi incentivi al credito non avranno seguito. Abbiamo due anni per seguire questo esperimento, è un ulteriore sforzo che la BCE fa per incentivare, creare le condizioni per la crescita economica, ma non dobbiamo mai dimenticare che la crescita economica dipende da altro, dipende dalle politiche economiche strutturali, dipende da buone politiche fiscali. Finora la BCE ha fatto tutto quello che poteva fare, dato anche i vincoli istituzionali che disegnano il suo mandato, ora la palla dovrebbe passare agli altri protagonisti della politica economica.